L'importanza di questo premio è il fatto che deriva dai consumatori che continuano ad apprezzare il nostro marchio e che quindi riconoscono in Benetton un marchio trasversale, visto che abbiamo vinto nella categoria abbigliamento famiglia, quindi questo tema di inclusività che continua ad essere presente all'interno dei valori del nostro marchio. Continuare a innovare, che è sempre stato parte del DNA dell'azienda, guardando a nuovi consumatori, a nuovi mercati e a nuove generazioni.